Perchè? Milioni di perché si susseguivano nella mente, come pecore belanti. Fluttuavano e poi sparivano. Avrei voluto alzarmi, ma non ce la facevo. Avrei voluto gridare, ma non potevo. Mi addormentai. Sognavo? Sognai di sognare e mi accorsi che non stavo dormendo. Pensai che qualcuno sarebbe arrivato e mi sentì improvvisamente felice. Passò molto tempo, o così mi parve. Forza, entra, che è aperto. E dai, muoviti. L'amico entrò lentamente. Non riuscivo a vedere chi fosse. Si avvicinò e mi guardò. Fece altri movimenti e cominciò a chiudere le imposte delle finestre. Poi uscì. E' andato a chiedere aiuto. Ma perché ha chiuso a chiave? La frase, è andato a chiedere aiuto, si allargò e si restrinse. Le parole ci mettevano un tempo immenso per nascere, un attimo per morire. E' andato a chiedere aiuto. E' andato a chiedere aiuto. E' andato a chiedere aiuto. E' andato a chiedere aiuto.